Facile successo per il voleggio a Ratana che, faticando meno del previsto, si è imposto in 3-7 al gruppo buono Leonforte che si è inchinato alla legge del palazzetto dello sport del centro montano Ibleo. La gara è stata a senso unico, con i padroni di casa che, approcciando in maniera quasi perfetta il match, mettono subito la testa avanti nel punteggio, imponendosi facilmente per 25-16. Molto più equilibrato è il secondo parziale che ha visto il sestetto Ennese giocare per lunghi tratti alla pari dei loro avversari, riuscendo a portarsi anche avanti di 4 punti subito dopo il primo time-out tecnico. La strigliata di Saravi e l'entrata in campo di Danilo Sabellini, che portava a casa due punti con altrettante battute al veleno, cambiano le sorti del set con i rossi di casa che iniziano la rimonta che li portava ad aggiudicarsi il parziale ai vantaggi con il punteggio di 28-26. A questo punto il sestetto Leon Fortese accusa un calo fisico e mentale e per Chillemi e compagni tutto diventa più semplice. Con un pesante 25-16 gli uomini di Saravia portano a casa il match e dopo aver festeggiato il quinto successo stagionale su altrettante partite con i propri tifosi, da domani saranno concentrate al massimo in vista del big match di sabato prossimo, quando al palazzetto dello sport del Comune Bleu arriverà la corazzata Pallavolo Messina. Grazie.